Capitolo Quarantottesimo Del venerabile frate Jacopo di Massa della Marca Frate Jacopo di Massa, al quale ha perse il Dio l'uscio dei secreti suoi, e donogli perfetta scienzia e intelligenzia della Divina Scrittura e delle future cose, fu di tanta santità che frate Egidio d'Ascesi e frate Marco da Montino, frate Ginepro e frate Lucido, dissono di lui che non conosceano al mondo nullo appo Dio maggiore di lui. Quale frate Jacopo io ebbi gran desiderio di vedere, però che pregando io frate Giovanni, compagno di frate Egidio, che mi dichiarasse certe cose, disse «Se vuoi essere informato nella vita spirituale, vedi di parlare con frate Jacopo di Massa, però che frate Egidio desiderava essere informato da lui et illuminato, che ad sue parole non si può aggiungere né mancare, però che la mente sua è passata a secreti celestiali, et sue parole sono di spirito santo, et non è uomo sopra la terra che io desideri tanto di vedere». Questo frate Jacopo, al principio del ministerio di frate Giovanni da Parma, orando una volta, fu ratto in Dio et stette così tre di in estasi, sospeso da omni sentimento corporale, onde dubitarono i frati che fusse morto. Et in quel li fu rivelato da Dio ciò che doveva essere et intervenire alla religione nostra. Per la qualcosa mi crebbe il desiderio, o dito questo, d'udirlo et parlare con lui, se piacesse a Dio che io avessi tempo di parlare con lui. Sicché, come piacque a Dio, li parlai così dicendo «Io hai ho udito che quando tre di stesti quasi morto, fra l'altre cose i Dio ti rivelò ciò che venire in questa nostra religione doveva. Et questo ha detto frate Matteo, ministro della marca, al quale per riverenzia et per ubbidienzia lo rivelasti». Allora frate Jacopo, con grande umiltà, li concedette che quel che diceva frate Matteo era vero. E il dire di frate Matteo fu questo. «Io so, frate, al quale ha rivelato i Dio tutto che diverrà nella religione nostra. Perché frate Jacopo della marca mi ha manifestato et detto che dopo molte cose che i Dio li rivelò dello stato della chiesa militante in visione, vide un albore grande et bello, la cui radice era d'oro e i frutti suoi erano uomini, tutti frati minori. I suoi principali rami erano distinti secondo il numero delle province dell'ordine et ciascuno ramo aveva tanti frati quanti ne erano nella provincia importata per quello ramo. Onde seppe allora il numero di tutti i frati dell'ordine et di ciascuna provincia et anco le tadi e il nome loro, condizioni, gradi, offizi et dignitati et le colpe di tutti. Et vide frate Giovanni da Parma nel più alto luogo del ramo in mezzo di questo albero et nelle cime dei rami di mezzo stavano i ministri di tutte le province. Et dopo questo vide Iesu Cristo sedente su uno trono grandissimo et candido. Chiamava Iesu Cristo San Francesco et davali uno calice pieno di spirito di vita et facevali dire va visitali frati tuoi dando loro da bere di questo calice di spirito di vita però che lo spirito di Satanas contra di loro si leverà et percoterali et cadranno molti di loro che non si leveranno. Et diede Iesu Cristo due angeli a San Francesco che l'accompagnassino. Venne San Francesco allora a porgere il calice dello spirito della vita a frati suoi cominciando ad porgere ad frate Giovanni di Parma quale divotamente tutto quanto il bevè in fretta et diventò subito luminoso et chiaro come il sole. Dopo Lui seguentemente lo porgeva ad tutti gli altri et pochi erano quelli che con debita riverenzia et divozione lo pigliassono et bevessino tutto. Et quelli pochi che il facevano si facevano lucenti et chiari come il sole. Ma quelli che il versavano et non lo prendevano con divozione diventavano oscuri et nerissimi sformati et orribili ad vedere. Quelli che parte ne beveano et parte ne versavano diventavano parte luminosi et parte tenebrosi più et meno secondo la divozione la misura del bere et del versare. Ma sopra tutti gli altri il sopraddetto frate Giovanni era più splendente però che più compiutamente aveva beuto il calice della vita per lo quale profondamente aveva contemplato l'abisso della infinita luce divina et in essa aveva compresa l'avversità et tempesta che levare si doveva contra il detto albero et crollare et commuovere i suoi rami. Per la qualcosa detto frate Giovanni si partì dalla cima del ramo ove stava et discendendo di sotto ad tutti i rami si nascose sul sodo del ceppo dell'albore et stava tutto pensoso. Frate Bonaventura che aveva preso parte del calice et parte versato salì in quel ramo et in quel luogo ov'era disceso frate Giovanni et stando in quel luogo l'unghia delle mani li diventarono unghia di ferro spuntate et taglienti come rasoi et mossesi del luogo ov'era salito et con furore et tempito si voleva gittare contra frate Giovanni per nuocerli ma frate Giovanni veduto questo si raccomandò molto a Jesu Cristo che sedeva nel trono Jesu Cristo al grido suo chiamò San Francesco et datoli una pietra focaia li disse va et con questa pietra focaia taglia l'unghia ad frate Bonaventura con le quali graffiare vuole frate Giovanni si che non li possa nuocere venne San Francesco et fece come li aveva comandato Jesu Cristo fatto questo venne una tempesta di vento et nell'albore si forte percosse che li frutti ne caddono in terra ciò sono i frati però che prima ne cadevano quelli che avevano versato tutto il calice dello spirito della vita quali da dimoni erano portati a luoghi tenebrosi et penosi ma frate Giovanni insieme co gli altri che avevano beuto tutto il calice furono traslati dagli angeli il luogo di vita et di lume eterno et splendore beato et discerneva et intendeva sopraddetto frate Giovanni che vedeva questa visione particolarmente et discretamente ciò che vedeva quanto a nomi et condizioni et frati chiaramente di ciascuno et bastò la tempesta tanto contra l'albero che cadde et portollone via il vento immantanente che la tempesta fu cessata della radice di questo albero rimasa tutta d'oro produsse frondi fiori et frutti orati della quale albore et sua dilatazione profondità bellezza odore et virtù è meglio tacere che al presente dire allaude di Jesu Cristo capitolo quarantanovesimo del venerabile Giovanni da fermo detto della Vernia tra gli altri savi frati e tesanti figliuoli di san francesco quali che dice salomone sono la gloria del padre a nostri tempi nella provincia della marca fu il venerabile frate Giovanni da fermo quale per gran tempo che dimorò nel sacro et santo luogo della Vernia et cui vi passò di questa vita si chiamava frate Giovanni della Vernia però che fu di singolare vita et gran santità questo essendo fanciullo secolare desiderava con tutto il cuore la vita di penitenzia che mantiene mundizia d'anima et di corpo onde essendo piccolo fanciullo cominciò ad portare il corretto di maglie et il cerchio di ferro alle carni et fare grande astinenzia specialmente quando dimorava a cocalonaci di santo Pietro nella città di fermo i quali vivendo splendidamente lui li fuggiva et loro delizie corporali et macerava il corpo suo con gran rigidità di penitenzia ma avendo i compagni in ciò molto contrari i quali li spogliavano il corretto et sua abstinenzia in modi diversi impedivano spirato da Dio pensò lasciare il mondo co suoi amatori et offrire tutto se medesimo nelle braccia del crocifisso et di san francesco et così fece adunque essendo riceuto all'ordine così fanciullo et commesso alla cura del maestro de novizi diventò si spirituale et divoto che alcuna volta udendo il detto maestro parlare di Dio li si struggeva il cuore come la cera al fuoco et così con grande suavità di grazia si scaldava nello amore divino che non poteva star fermo né sostenere tanta suavità et dolcezza ma si levava et come ebbro di spirito discorreva per l'orto per la selva o per la chiesa secondo che l'impeto della fiamma il sospigneva in processo di tempo poi la divina grazia fece questo uomo crescere di virtù in virtù et indoni celestiali et revelazioni divine et ratti intanto che alcuna volta la mente sua era elevata al grande splendore dei cherubini alcuna volta all'ardore dei serafini alcuna altra volta al gaudio dei beati alcuna volta ad amorosi et eccessivi et dolci abbracciamenti di jesu cristo solamente per gusti spirituali dentro ed et zian dio per espressi segni di fuori et gusti corporali et singularmente per eccessivo modo una volta accese in suo cuore la fiamma del divino amore et durò questo in lui bene tre anni nel quale tempo riceveva maravigliose consolazioni et divine visitazioni et spesse volte era ratto in dio et brevemente in detto tempo pareva tutto affocato et inceso dell'amore di jesu cristo et tutto questo fu sul monte della vernia ma per che dio ha singolare cura dei figlioli suoi dando loro secondo diversi tempi ora consolazioni ora tribolazioni ora prosperità quando avversità come vede il bisogno ad mantenelli in umiltà ovvero per accendere il desiderio loro alle celestiali cose piacque alla divina bontà dopo tre anni sottrarre al detto frate giovanni questo razzo et fiamma del divino amore et privollo domini consolazione spirituale di che lui rimase senza luce et senza amor di dio et tutto sconsolato afflitto et addolorato onde così angoscioso se andava per la selva discorrendo qua et là chiamando con sospiri voci pianto et grida il detto sposo dell'anima sua il quale sera ascoso et partito dall'anima sua senza la cui presenzia l'anima sua non trovava requie nel riposo ma ma in nullo modo nel luogo ritrovar poteva il dolce jesu né abbattersi a quelli suavissimi gusti spirituali dell'amor di cristo come era usato e tu durolli questa cotal tribolazione per molti di nei quali perseverò in continuo piagnere et sospirare pregando i dio che per sua misericordia et carità gli rendesse la detta consolazione dell'anima sua alla fine quando piacque a dio aver provato assai la pazienza sua et acceso il desiderio suo un dì andando per la detta selva così tribulato et afflitto et per stanchezza postosi a sedere al lato a uno faggio stando con la faccia bagnata di lacrime guatando verso il cielo subitamente presso a lui apparve jesu cristo nel viottolo ove ipso era venuto ma non però li dice alcuna cosa videro bene frate giovanni ma non però lo conobbe ma pur conoscendo infine che era jesu cristo si gittò ai suoi piedi et con pianto smisurato umilmente lo pregava dicendo soccorrimi signor mio però che senza te dolcissimo salvatore mio sono in tenebre et in pianto senza te mansuetissimo agnello sto in angustia et in paura senza te figliuolo dell'altissimo iddio sto in confusione et vergogna senza te sono spogliato et accecato domini bene però che tu sei jesu cristo vera luce dell'anima et via delle vite senza te sono sterile et arido però che tu sei vera fonte domini dono et grazia senza te sono sconsolato al tutto però che tu sei jesu nostro redentore amore et desiderio pane confortativo et vino che rallegri i cuori degli angeli e di tutti i santi illumina me maestro grazioso et pietosissimo pastore che sono tua pecorella benché indegna ma però che il desiderio dei santi uomini quali Dio indugia ad esaudire s'accendono a maggior amore et merito cristo benedetto si partì senza niente dire et cammina per detto viottolo allora frate giovanni li corre dirieto et da capo li si gitta a piedi con grande importunità et divotissime lacrime il priega et dice o dolcissimo iesu abbi misericordia di me tribulato esaudiscimi per la moltitudine delle misericordie tue et per la verità di tua salute rendimi la letizia della faccia tua et del tuo prezioso sguardo però che di tua misericordia è piena tutta la terra et cristo ancor senza dire nulla si parte et senza darli consolazione alcuna et fa proprio come la madre quando si fa andare dietro il figliuolo bramando la zizza perché più volentieri la pigli poi allora frate giovanni con maggiore fervore et desiderio seguita cristo raggiunto jesu cristo si rivolta a lui riguardandolo col viso grazioso et allegro et aprendo le sue santissime et misericordiose braccia dolcissimamente la abbracciò et in quello aprire di braccia frate giovanni vide uscire del sacratissimo petto del signore razzi di maravigliosa luce quali illuminarono tutta la selva et si andio lui in anima et corpo allora frate giovanni si inginocchiò ai piedi di cristo et jesu a modo che a maddalena li el porse ad baciare frate giovanni con molta riverenzia et assai lacrime ad modo della maddalena baciandoli tutti li bagnò di lacrime dicendoli priegoti signor mio che non guardi a mie peccati ma per la sacratissima et santissima passione et aspersione del santissimo et prezioso sangue tuo suscita l'anima mia nella grazia del tuo amore con ciò sia che questo sia il comandamento tuo che noi tamiamo con tutto il cuore et con tutto l'affetto qual comandamento nullo adempiere puote senza l'aiuto tuo